Il punto è stato definito, abbiamo messo in evidenza interventi consistenti sul recupero di efficienza del ciclo idrico integrato, abbiamo messo anche in efficienza la sicurezza del suolo e del sottosuolo e poi abbiamo preteso anche dare continuità e compiutezza all'armatura delle piste ciclabili, del cicloturismo e delle ciclovie abruzzesi. E poi naturalmente una parte molto significativa è destinata alla mobilità della gomma, del ferro e dell'acqua. Più abbiamo finanziato una serie di opere faro, tipo la badia di Sulmona e altre opere significative che sono connesse alla potenza dei nostri parchi. Per la prima volta compare in un documento di programmazione finanziante la messa in sicurezza per la piena godibilità anche delle aree a parco e delle aree a riserva della regione Abruzzo stabilendo una risorsa per la segnaletica e la sentieristica montana. Quindi l'Abruzzo è pronto a presentarsi al governo con un piano operativo? Assolutamente sì, ci abbiamo lavorato dal 26 di agosto, dal giorno dopo i San Pietrini. Noi abbiamo conseguito l'ingresso all'interno delle regioni del Masterplan pur essendo, secondo i dati della Svimez, fuori dal mezzogiorno. Però Renzi ha preso l'impegno il 25 di agosto e ci ha fotografati all'interno delle regioni per il Patto per il Sud. E noi abbiamo lavorato dal 25 di agosto all'altro ieri per fare questo straordinario documento di cui sentirete parlare. L'ultima cosa, l'Aquila Pescara ha abbandonato l'idea di poter modificare... No, no, questa è una delle infrastrutture della gomma per quanto riguarda la mobilità abruzzese. C'è l'Aquila Pescara, c'è il quarto lotto della Teramo Mare, c'è l'allungamento dell'asse attrezzato fino al porto di Pescara, c'è l'ultimo miglio ferroviario del porto di Vasto e poi naturalmente ci sono opere di messa in sicurezza anche concernenti per esempio la Pedemontana nel tratto Guardiagrele-Fara-Sanmartino al servizio anche delle imprese. Ci sono interventi significativi per quanto riguarda l'autostrada del Liri, la superstrada del Liri. Grazie. Presidente. L'ammontare di questo pacchetto di interventi? Ma è un ammontare che mette insieme sia risorse della Regione che risorse dello Stato, è un'azione importante. Se volete poi vi faccio conoscere il dato perché ci sono anche risorse destinate alla progettazione. Io mi aspetto come copertura dal Governo dai 4 ai 500 milioni di euro. Presidente, a proposito di Governo, stamattina sui giornali l'allarme dei Presidenti delle Regioni rispetto alla prossima legge di stabilità. Addirittura si è parlato di rischio in passo per tutti gli enti. Volevo capire qual era la sua posizione. Io faccio parte del tavolo di competizione delle Regioni. Siamo in un confronto competitivo perché dobbiamo difendere l'agibilità delle Regioni. Ci sono dati di erogazione di servizi che vanno assolutamente difesi. Penso alla sanità ma penso anche al trasporto pubblico locale. Su questo siamo ad un confronto serrato e di merito. Un'ultima cosa, un parere se puoi rilasciarcelo sulla presunta crisi politica che si vive qui all'Aquila. Il Vice Sindaco Trifoggi pare intenzionato a presentarsi all'amministrativa e questo ha creato qualche imbarazzo. Io avverto questo come elemento di grande vitalità. Io penso che i problemi in una democrazia elettiva, quella che vige in Italia e in Europa, sia quando mancano le candidature. Quando c'è un'abbondanza di candidature io festeggerei.